Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi Chica Boom ci ha mandato un altro pacco Questo è il nuovo pacco di Chica Boom All'interno troviamo più di una sorpresa E c'è anche una mega sorpresa gigante E adesso aspettate, guardiamo insieme In questo pacco c'è un altro pacco Il pacco dentro il pacco In più abbiamo le nostre mitiche tartarughe ninja Mi manca un dente che si è rotto E queste sono le tartarughe ninja Hero Pop tartarughe ninja Elastic Corp E quindi questo è Leonardo, come potete vedere E questo è Raffaello Li apriamo? Sì! Questi sono i vari formati e i vari personaggi Vedete? Mi raccomando, andate sempre sul sito di Chica Boom Per comprare online Oppure nei migliori negozi di giocattoli Oppure nelle edicole Li puoi schiacciare, strapazzare, stritolare Far fare, far fare tante smorfiette E poi ci puoi anche salire sopra Saltellarci sopra Siete pronti? Apriamo! Sono belli pesanti Eccoli qui i nostri Chilopop Li schiacciamo? Sì! Una faccia strana Vedete? Sono deformabili Mattia li schiaccia Facci vedere la faccia che è uscita Bellissima! Mattia, il tuo ha la faccia della pizza Che le tartarughe ninja mangiano sempre Adesso Seconda scatola Siete pronti? Seconda scatola Pronti all'apertura Sbirciamo nella scatola E troviamo i nostri Elastic Corps preferiti Sono i giganti Cioè gli Oversights E sono della misura più grande Di Elastic Corps Ma questo ha una specialità E' termico Praticamente come è anche scritto dietro Sia col caldo e col freddo Può cambiare colore Lo proviamo nell'acqua calda e nell'acqua fredda? Sì! E' stato aperto il nostro scimione Che si chiama Camaleon Quindi adesso Qui abbiamo l'acqua fredda E qui abbiamo calda Anche se noi già ne abbiamo tanti Di questi grandi Ne abbiamo tre Tre Questo è proprio bello Ecco Solo a toccarlo Inizia a cambiare di colore Adesso lo immergiamo Lo facciamo sentire freddo o caldo? Caldo Facciamo sentire prima caldo Questa è tanta acqua calda E questa è ghiacciata C'è anche un pezzo di ghiacciata Il tempo resta Io sono bianchissimo Adesso lo asciughiamo e lo mettiamo nell'acqua fredda Adesso è il turno di Alfonso Che lo metterà nell'acqua ghiacciata Vai Alfonso Fa caldo Oppure lo potete mettere nel bagno Nella vasca insieme a voi Mentre fate il bagno Nell'acqua calda E diventa bianco Poi nel momento in cui Vieni tirato fuori Dall'acqua O tolto dal sole Ed eccolo qua E' ritornato Blu Tutto blu Adesso vi facciamo vedere Da capo come si fa Dal freddo Ecco qua Dall'acqua fredda Lo ripassiamo nell'acqua bollente Calda Basta che sta al caldo E inizia Guardate già sotto al collo Inizia già a schiarirsi Ma basta davvero poco E così Guardate E diventa Bianco E se è già fatto Abbassa 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 nell'acqua Bravo Ecco qua Vedete E' ritornato Bianchissimo Vedete come è bianco Ed è tutto bagnato L'abbiamo appena tolto Dall'acqua Adesso lo riimmergiamo Nell'acqua fredda Vai Alfonso Metti Metti Guardate In un attimo Cambia Appena l'ho messo Già è diventato blu E' azzurro Sta per diventare Blu Guardate In pochissimo tempo Saranno passati 5-6 secondi Ed è cambiato Il suo colore Ragazzi Voi andate Sullo shop online Di Chica Boom E mettete anche Il codice Alphonse Dino 20 Per avere Il 20% Dello sconto Su tutti I giochi Chica Boom In tutto questo Vi lasciamo E vi diamo appuntamento Alla nuova Unboxing E continuiamo a giocare Con i nostri Chica Boom Nuovi Ciao 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 Pizza hamburger, pizza hamburger, pizza hamburger, pizza 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 Sì 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 Sì